Salve a tutti da Mario Santagati e da Chesslogger per i video problemi. Nella posizione che vedete muove il bianco e vince. La posizione è tratta da una partita che si è giocata a Reykjavik nel 1991 tra Jan Elvest e Alexander Beljavski. Se avete già trovato la soluzione scrivetela qui sotto nei commenti. Da parte mia vi do appuntamento alla settimana prossima sempre con Mario Santagati e Chesslogger e i video problemi. Ciao! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie!